Nave incagliata in Nuova Zelanda per il ministro dell'Ambiente, Nick Smith, la peggiore catastrofe ambientale della storia dell'isola. Centinaia di tonnellate di greggio sono già fuoriuscite in mare e sporcano le spiagge incontaminate del nord, mettendo a rischio flora e fauna, una situazione che peggiora di ora in ora. Il cargo è arenato da mercoledì nella barriera corallina di Astroleib, a largo di Taurona nella baia settentrionale di Plenty. Il maltempo ha ostacolato le operazioni di pompaggio e recupero. Il timore adesso è che la falla si allarghi o peggio che lo scafo sempre più inclinato si rompa, rilasciando nell'ambiente il suo carico di 1700 tonnellate di petrolio.